Ehi tu, Gnafur, signore di Moro, che ci fai sulle terre di Esbir? Non sai che non puoi passare dalle terre di Togliti di Mezzo? Hai pagato il dazzo e l'urco di Traghettor? Ma non basta, tu non puoi comunque passare dalle terre di Togliti di Mezzo? Hai pagato il pizzo e i maghi di Mafior? Ma non basta, tu non puoi comunque passare dalle terre di Togliti di Mezzo? Hai lasciato le impronte dei piedi sulle terre di Bossur e Finur? Ma non basta, tu non puoi comunque passare di qui! Perché? Perché c'è una buca, imbecille! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!